Ciao classe, benvenuti alla Scuola della Fede. Abbiamo un altro giorno meraviglioso, un'opportunità per nutrire il nostro spirito con le parole della fede e per lasciare che il Signore ci porti in alto, in un luogo più alto, di operosità come fa Lui. Il tuo posto è riservato proprio qui, davanti. Ho il mio righello qui da qualche parte, se fate un po' di casino o altro, possiamo rimettervi in riga. Prendete la Bibbia. Prendete qualcosa su cui prendere appunti. Non lasciate che nulla vi distragga per questi prossimi momenti. Lasciate che lo Spirito di Dio vi amministri. Preghiamo, mettiamoci d'accordo e liberiamo la fede con la nostra preghiera. Padre nel nome di Gesù, ci sottomettiamo a Te per questo tempo, in questa classe della Scuola della Fede, e Ti chiediamo di nutrire i nostri spiriti, di darci esattamente ciò di cui Tu sai abbiamo bisogno. Dacci risposte, direzione e aiuto, occhi e orecchie e un cuore aperto, che vede e riceve, e Ti daremo la lode. Saremo fautori come Tu ci suggerisci, nel nome di Gesù. Amen. La fede è una delle cose più belle di cui si possa parlare o sentire parlare. È la scelta di Dio per il nostro modo di vivere e di operare. È l'unico modo per compiacerlo in qualsiasi cosa. Potete pregare tutto il giorno, ma se non avete mai pregato con fede, quella preghiera non piacerà al Padre. Potete dare denaro per aiutare le persone, ma se non lo fate con fede, niente di tutto questo gli piacerà. Nessuna quantità di opere è accettabile da sola o in base al proprio merito. Dio guarda sempre il cuore e un cuore di fede gli piace e una delle ragioni per cui gli piace così tanto è che Lui è il donatore. La grazia di Dio ci ha dato tutte le cose che riguardano la vita e la pietà e ciò che gli piacerà è che ci alziamo nella fede e riceviamo tutto ciò che ci ha dato. Quindi guardiamo di nuovo la scrittura e anche se diciamo alcune cose che avete già sentito. Se le sentite con più fede questa volta ne ricaverete più di quanto non abbiate fatto la prima volta. E se è la prima volta che vi unite a noi, potete andare negli archivi e ottenere le lezioni precedenti e se le guardate tutte sarete intelligenti come questi ragazzi qui. Guardiamo i Romani il primo capitolo Romani 1,17 dove ci dice che nel Vangelo la giustizia di Dio si rivela progressivamente dalla fede alla fede. Com'è scritto il giusto vivrà per fede. Se leggete Abacuc, se leggete Galati e leggete in altri posti, dice esattamente la stessa cosa. Il giusto vivrà per fede. Alcune traduzioni dicono il giusto vivrà per la sua fede. Vivrete per la vostra fede. E questa fede rivelano i Romani è una misura della stessa fede di Dio. Marco 11,22 Credo che sia. Gesù disse Abbiate fede in Dio. E i Romani ci dice Lui ha dato ad ogni uomo una misura di fede. Ecco questa è una misura della sua stessa fede. Ma da dove viene la fede di Dio? Viene da Dio. E così se mai sentite qualcuno dire Mi dispiace non posso credere o non posso credere così. Si sbagliano. Loro sono stati ingannati su questo non capendo quale sia la natura della fede. Se siete un figlio di Dio la fede fa parte della vostra costituzione. Fa parte della nuova creazione. Vi è stata data una misura della fede. E per la natura stessa della fede non dovete capire per credere. È semplicemente una scelta. Avete scelto di credere. Si tratta di fidarsi alla fonte di ciò che sentite. Ora essere un cristiano non significa che dovete essere creduloni. Ma questo non significa che se siete gentili e avete amore e fede credete a tutto quello che vi dicono. Questo è solo essere sciocchi. No crediamo a tutto quello che Dio ci dice. Tutti gli altri li controlliamo. Potremmo essere lenti a crederci perché dovreste credere a qualcuno di cui non sapete nulla e soprattutto a qualcuno che vi ha mentito ripetutamente. Siete sciocchi a credere a quello che vi dicono senza verificare. Potete amare qualcuno senza credere a tutto quello che dicono. Potete amarli senza fidarvi. La fiducia si basa su qualcosa che è stato provato su cui si può contare e Dio non ci ha mai mentito nemmeno una volta. Infatti è impossibile per lui mentire quando vi dice qualcosa. Non importa quanto folle o impossibile possa sembrare se ve lo dice andate avanti e decidete ok? È vero se l'ha detto ci credo è una scelta non dovete capire niente è una scelta. Il fratello Ken Taggin Senior che ora è in cielo era solito dire che da giovane ragazzo non riusciva a capire come una mucca marrone potesse mangiare erba verde e dare latte bianco da cui poi si ricava del burro giallo certo questo risale a quando non si sapeva molto ma diceva che per tutto il tempo che stava cercando di capirlo si godeva il latte si godeva il burro e anche il gelato che si fa con il latte cosa significa non dovete capire una cosa per goderne i benefici molte persone vanno in giro con un'auto non hanno idea di cosa succede quando la mettono in moto e quando guidano sanno solo che possono spingere l'acceleratore andare avanti non hanno idea degli ingranaggi e del fluido e delle valvole e dell'elettronica non dovete sapere tutto a riguardo ma se non credete che funzionerà non salirete in macchina non la fareste partire non la mettereste in moto la fede non si basa sulla conoscenza e sulla comprensione quando le persone dicono mi dispiace non posso crederci si sbagliano per dirlo correttamente dovreste dire scelgo di non crederci perché è una scelta quando si tratta di dio non siamo miscredenti non facciamo fatica a crederci non dobbiamo essere ostinati siamo veloci a credere se lui lo dice nella sua parola accettiamolo immediatamente diciamo bene questo è vero non importa quello che sento o vedo se ve lo dice il suo spirito anche questo sarà sempre in linea con la bibbia accettatelo credeteci ha detto il giusto vivrà per fede ora tornate con me all'uno timoteo abbiamo guardato questo uno timoteo capitolo 6 il giusto vivrà per fede il giusto camminerà per fede e c'è anche la buona battaglia della fede 1 timoteo 6 e 12 questo dice combatti il buon combattimento della fede si tratta di una lotta buona non di una cattiva e afferra la vita eterna afferratela abbiamo menzionato che a volte la gente dice dobbiamo solo lasciarlo addio c'è molta differenza tra lasciare e afferrare se parlate di lasciare andare le vostre ansie le vostre preoccupazioni paure i vostri dubbi o sì lasciateli lasciateli perdere ma se dite che dipende tutto da Dio e che dovete solo smettere di cercare di fare qualcosa e lasciarlo a Lui no no cercate di fargli fare quello che vi ha detto di fare e non ci sarà un lieto fine si ha detto di combattere la buona battaglia della fede e di afferrare la vita eterna quando la afferrate venite a Gesù per la prima volta gli date la vostra vita nascete di nuovo afferrate la vita eterna afferrate il suo amore prendete in mano il perdono e la purificazione che Lui vi ha dato l'accettazione come suo figlio e sua famiglia ma non finisce qui c'è un diavolo in questo mondo ci sono spiriti maligni ci sono influenze malvagie e il nemico verrà a portarvi pensieri e sentimenti che sono molto molto reali e questi pensieri e sentimenti cercheranno di dirvi che non potete vivere questo tipo di vita non siete in grado non siete in grado di farlo o di comportarvi coerentemente o non sarete in grado di resistere a questa tentazione o non sarete in grado di stare lontani da questa cattiva abitudine e sedite solamente credo di essere solo un vecchio peccatore non credo non avete combattuto non avete combattuto vi siete resi prima che la cosa iniziasse dovete combattere dite tutti ad alta voce combatti combatti il buon combattimento il buon combattimento della fede della fede non è una lotta di sentimenti non è una lotta di ragionamento è una lotta di fede la fede continuate a credere a quello che dio ha detto su di voi non importa cosa sembra non importa come vi sentite dite sono la giustizia di dio in cristo non importa quanto male vi sentite gli errori che avete fatto dite sono un vincitore in cristo non importa quante volte la settimana scorsa il mese scorso abbiate fallito incasinato le vostre vite dite posso farlo posso fare tutte le cose per cristo che mi dà forza non importa quanto sembri impossibile quanto sembri complicato non cedete alla disperazione abbiate speranza combattete le sensazioni di disperazione combattete i sentimenti di perdita combattete la depressione combattete la tentazione non combattete dio dio non è il nemico combattete qualsiasi cosa e tutto ciò che cerca di dirvi che non siete o non potete essere che non potete fare ciò che dio dice che siete e potete fare andate alla seconda lettera ai corinzi per favore capitolo 10 2 corinzi capitolo 10 e notate questo ci sono alcuni dettagli e istruzioni su come combattere questa buona battaglia 2 corinzi 10 3 2 corinzi 10 3 dice perché sebbene camminiamo nella carne non guerreggiamo secondo la carne se siete stati con noi un paio di giorni fa allora sapete che abbiamo letto galatti che dice cristo vive in me ora e la vita che vivo questa vita nella carne io la vivo nella fede del figlio di dio non camminiamo nella carne secondo la carne o guerreggiamo secondo la carne ma mentre viviamo in questo corpo camminiamo per fede notate nel versetto 4 come combattere la buona battaglia come combattere spiritualmente le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in dio a distruggere le fortezze e queste fortezze sono specificate il versetto dopo dice distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di dio e facciam prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di cristo come combattete la buona battaglia della fede contro cosa sto combattendo combattete contro pensieri e immagini non biblici non credenti non divini e i sentimenti che accompagnano questi pensieri è qui che c'è la guerra qui è dove combattete e non importa quanto a lungo abbiate camminato con il Signore non importa quanta Bibbia conosciate o quanto prediate dovrete comunque affrontarli e ogni giorno è un nuovo giorno e sicuramente vi emozionerete per qualcosa che dio ha fatto per voi qualcosa che dio vi ha dato qualcosa che gesù ha comprato e pagato nella redenzione non appena dite ho questo credo di riceverlo e lo afferro appena lo fate incontrerete una resistenza so che non è bello sentirlo ma è così che è la vita e il nemico verrà immediatamente a rubare quella parola da voi come lo fa non può nulla il nemico non può farci fare niente deve farci accettare lui come lo fa porta dei pensieri porta immaginazione una volta ero in una chiesa un paio di anni fa e stavo parlando di questo e il signore mi ha dato un messaggio intitolato lo schiaffo fermalo bene ha detto distruggilo e questa è una parola forte fermalo schiaffeggialo distruggilo distruggere cosa questi pensieri questi sentimenti non lo sapevo ma c'era una giovane donna ho avuto questa testimonianza mesi e mesi dopo era lì in prima fila in quella riunione e ha detto che le era piaciuta e che pensava fosse interessante non so incinta di qualche settimana mi ha detto più tardi nella testimonianza ed è venuta a sapere dopo la riunione dopo che ce ne siamo andati che i medici le hanno detto che c'erano problemi con la gravidanza che c'erano problemi per il bambino e ha detto che le risuonava ancora nelle orecchie schiaffeggialo schiaffeggialo non parliamo di combattere i medici cercano di aiutarvi lascia che vi aiutino non stiamo parlando di combattere le nostre armi non sono naturali ma sono potenti spirituali e sono potenti combattere cosa? il vostro bambino? non starà bene cosa dovete fare a riguardo? ha detto che l'ha visto nella sua mente schiaffeggia quel pensiero e via no no il bambino starà bene nel nome di Gesù parlo della vita del mio bambino parlo di salute e forza del mio bambino e così settimana dopo settimana e mese dopo mese passava il tempo e ha detto che ogni giorno doveva respingere quei pensieri con uno schiaffo perché le venivano in mente e se qualcosa non andava bene se un testo qualcosa non andava bene aveva queste sensazioni questo non va bene beh poi è arrivato il momento di far nascere il bambino e ha parturito il bambino era perfetto il bambino era in salute lode a Dio lode a Dio vedete dove è arrivata la sua lotta e naturalmente il Signore lo sapeva e questa è una delle ragioni per cui mi ha fatto predicare su questo proprio prima che lei scoprisse questa brutta notizia che avrebbe dovuto lottare lottare per la salute la guarigione e lo sviluppo normale perfetto lo sviluppo completo di suo figlio non basta dire Signore tocca al bambino e rendilo giusto dovete tenere duro e credere che sarà così e poi cosa succederà non è la fine è l'inizio ogni mattina pomeriggio e notte dovete essere pronti per i pensieri e i sentimenti no voi non li avrete no non funzionerà oh sarà terribile sarà terribile il nemico è molto persistente queste cose possono venirvi in mente questi sentimenti e questi pensieri centinaia di volte in un pomeriggio può diventare stancante cosa devo fare dovete combattere la buona battaglia della fede dovete afferrare quella vita con Dio e dovete fermare ogni immaginazione che non sia in linea con quello che lui vi ha detto e come lui vi ha detto che sarà dovete afferrare ogni pensiero che è contrario a questo e dovete schiaffeggiarlo fermarlo dire no 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 le benedizioni di Dio anche se sono comprate pagate e ci ha dato la grazia così liberamente non cadono semplicemente su di voi e anche se dite credo di riceverla non è la fine è l'inizio il nemico vi combatterà fino in fondo una volta alcuni anni fa credevo per una cosa naturale una cosa materiale e avevo seminato per essa e ne avevo chiesto una al Signore l'avevo ringraziato per questo sono passati mesi è passato un anno è passato un anno e mezzo ed eravamo più lontani sembrava di quanto lo fossimo stati all'inizio e questi pensieri continuavano ad arrivarmi non sta funzionando guardate guardate cosa dovrei fare con quel pensiero questi pensieri ma continuavano ad arrivare e lo Spirito di Dio si è affrettato e mi ha detto se non funziona perché ti disturba che ti si dica che non funziona il nemico funziona così e l'ho visto ho pensato che doveva funzionare altrimenti non sarebbe successo cosa sta cercando di fare se non riesce a farmi smettere di credere e di aspettare questa cosa si farà strada e si mostrerà e sarà una buona testimonianza e non lo voleva e così il Signore mi ha dato una canzone ho cominciato a cantarla da solo aspetta aspetta continua a credere sii forte tra un po' andrà tutto bene aspetta aspetta tra non molto la tua fede diventerà visibile e di sicuro non era che un mese o giù di lì che la cosa è passata ma vedete che il nemico cercava di alzare la pressione mentre le cose si avvicinavano è una lotta è una lotta non combattete cercando di convincere Dio a farlo lui l'ha già fatto ma la mia fede lo riceve il nemico resisterà alla vostra fede cercherà di buttarvi giù cercherà di dissuadervi ma se non vi arrendete se mantenete la vostra fiducia e lasciate che la fede e la pazienza facciano il loro lavoro perfetto diventerete dice la Bibbia perfetti completi non vi mancherà nulla diciamo Amen Amen lode a Dio bene andate all'1 Giovanni a vedere questa grande verità Giovanni 1 5 ne abbiamo parlato nella prima settimana della scuola della fede perché la fede è così importante perché Dio l'ha scelta la fede non è una posizione teologica non è un gruppo non è un movimento la fede è la volontà di Dio come ha ordinato che noi viviamo giorno dopo giorno la fede è come si vive abbiamo anche visto che la fede è l'unico modo per compiacere Dio non c'è altro modo non c'è nessun sostituto che sia accettabile per lui in terzo luogo vediamo questo 1 Giovanni 5 4 dice poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede ci sono molti problemi nel mondo ci sono molte difficoltà ci sono molte cose che vi attaccheranno cercheranno di farvi del male di derubarvi di uccidervi e distruggervi ma quando siete nati ripeto avete preso la natura di vostro padre non sa come perdere non perde mai e questa fede è il modo in cui lui supera ogni cosa ogni volta e questo è in noi adesso siamo figli della fede di un Dio di fede questo ci rende figli vincenti alleluia di un Dio vincente l'operato con cui vinciamo è la fede che lui ha messo in noi la fede che viene dalla sua parola più diventate forti nella fede semplicemente non avrete giorni di crisi non importa cosa sta succedendo credete che lo supererete non importa quanto sia terribile credete che sia solo temporaneo finché non vedrete Dio glorificato in quella cosa in qualche modo e la volontà di Dio compiuta diventerete semplicemente una di quelle persone ottimiste una persona di fede alleluia e l'opera di Dio in noi che fa questo è in noi beh questa è la nostra lezione di fede per oggi restate dove siete tornerò tra un minuto per parlarvi della collaborazione ciao amici sono felice che vi siate uniti a noi per la scuola di fede e le nostre lezioni di questa settimana la scrittura dice in romani 10 come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare come udiranno se non vecchi predica e come predicheranno se non sono mandati siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle Dio ha ordinato che noi fossimo salvati questo include ogni senso attraverso la predicazione e l'insegnamento del Vangelo e dice come predicheranno se non sono mandati Dio ha anche ordinato di diffondere la parola con la sua chiamata ma anche attraverso i partner queste lezioni di questa settimana vi sono state portate dai nostri partner di World Sender sono portate a voi gratuitamente se volete aiutarci a mandarle ad altre persone se sono una benedizione per voi potete diventare anche voi un partner di World Sender trovate le informazioni per contattarci in basso nello schermo vi accogliamo con favore grazie per la vostra collaborazione Dio vi benedica vi amiamo Gesù è buono grazie per essere venuto alla Scuola della Fede la lezione è finita per oggi ma potete vedere altri episodi della Scuola della Fede gratuitamente sul sito web faithschool.org per maggiori informazioni visita il nostro sito web o chiamaci al numero 249 4170 27390 3000 11 Grazie a tutti.